Fra i tanti temi analizzati negli stati generali del turismo tenutisi nella sede pesarese di Alpitur, sono state anche svelate le linee guida degli eventi che caratterizzeranno il 2024 anno di capitale della cultura, a cominciare dalla sua moltiplicazione territoriale del progetto 50x50 capitali al quadrato, che fra Pesaro e l'alternanza dei comuni della provincia produrrà mille appuntamenti in 365 giorni inseriti nel filo conduttore La Natura della Cultura. l'unificiale della capitale italiana della cultura parla di Alpesaro in quella settimana. Veniamo alla prima settimana, il 2-28 gennaio, dalle foglie, che cosa succederà? Che un turista che viene a Pesaro in quella settimana avrà un calendario doppio, gli eventi che ci sono appeso nella città e gli eventi che ci sono alle foglie. Quindi voi capite che almeno fino a 12 settimane noi avremo 14-20 settimane. Ed è davvero un'occasione di promozione per tutta la provincia di Pesaro Urbino. Noi avremmo potuto giocarci in maniera turistica, era sicuramente pieno di spiglioso. Più facile, termini di visibilità politica era la stessa cosa, ma avremmo perso una grande occasione. Ricci ha fatto luce sulla tabella di marcia ed innesco degli eventi di Pesaro capitale che avranno uno straordinario propulsore fra Natale e Capodanno. Il periodo Natalizio sarà già un periodo di lancio della capitale della cultura. Quindi noi cercheremo di far vivere una capitale della cultura dentro un Natale e sarà un Natale speciale. Quest'anno sarà un Capodanno speciale, perché sarà il Capodanno davvio nella capitale della cultura. e sarà il Capodanno di Radio 2. Quindi Radio 2, Radio Castellare organizza a Pesaro il Capodanno 2024. Come lo organizza? Con il format del Capodanno 1. Tant'è che i figli hanno già nominato il Capodanno. Quindi lo staff del Capodanno 1, la trasmissione del Capodanno organizzeranno, se non noi, un Capodanno speciale alternativo a altri Capodanni diciamo più nazionali popolari, diciamo così. Il nostro sarà comunque nazionale popolare più culturale e quindi abbiamo da subito, lo dico, gli operatori da vendere Capodanno che fino ad oggi non avremo mai. Sarà un grande Capodanno e sarà l'avvio ufficiale, il primo avvio ufficiale della Capità italiana della cultura. Secondo, abbiamo fissato con il Presidente Mattarella la data della cerimonia inaugurale e sarà sabato il 15 gennaio. Abbiamo deciso di farla al Bic Frigurena ma lì vediamo che il 15 gennaio è la festa della Capità dell'Avventura del cui, dalla mattina al pomeriggio con i bambini, dalla sera con le famiglie alla notte con i giovani, sarà una grande festa di appio ufficiale della Capità dell'Avventura. Elemento iconico dei 12 mesi di Pesaro 2024 sarà la sfera che verrà collocata in Piazza del Popolo da fine gennaio. È una grande sfera di quattro metodi in diametro, tutta tecnologica, che diventa in qualche modo la nostra icona della Capità dell'Avventura. Verrà posizionata in piatto davanti alle poste, nella parte opposta del comune e sarà tuttora per tutto l'anno del 2024. Non sarà solo una cosa da vedere, ma sarà una cosa, come l'anno della vita, che produrrà uno spettacolo audio-luci tre volte al giorno, presumibilmente. Il primo bimestre di Pesaro 2024 sarà chiuso dal connubio fra una data particolare legata ad una scadenza con qualche rischio. Il 29 di febbraio, che è il più grande rossini, noi vogliamo festeggiare il più grande rossini con l'inaugurazione dell'auditorio di Scadolini. E quindi, con l'inaugurazione del vecchio, con la scadenza veloce fuori. Abbiamo fatto un interesse di più con le lavorazioni con le imprese anche in questi giorni, i lavori stanno andando avanti, ovviamente già devi approcciare le dita, però io l'ho andata con l'inaugurazione in modo tale che a posti, a scenerini, a forfanelli, che hanno vinto i lavori, fino all'ultimo dei nostri dipendenti, sanno e permetti noi di fiducare la cucinaia.